Un tecnico stava operando su un traliccio della telefonia quando si è imbattuto in un nido di calabroni. L'uomo è stato punto e si è sentito male. È accaduto nella mattinata di mercoledì 30 agosto intorno alle 9 in via Levona a Rivara. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, i staff, la croce rossa di Castellamonte e l'elicottero dei vigili del fuoco Drago 66. Raggiunto ai sanitari, l'uomo ha ricevuto le prime cure, poi lentamente è stato fatto scendere e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Non è in pericolo di vita, i vigili del fuoco stanno provvedendo alla bonifica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.